La prevenzione, la gestione... Questa iniziativa va avanti dal 2008, siamo partiti con 80-90 campi. Quest'anno, nel 2016, ne stiamo facendo su tutto il territorio nazionale da metà giugno a metà settembre circa 260 campi organizzati dalle regioni, col volontariato locale delle regioni e dalle associazioni nazionali di protezione civile, cioè le associazioni che sono iscritte nell'elenco centrale. È già il terzo anno che lo facciamo e ogni anno è sempre più bello. Sta a dire che allora funziona. È un progetto valido che serve soprattutto per riuscire a far capire ai giovani elevi quanto è importante fare volontariato, soprattutto in protezione civile. Noi facciamo tantissime cose, la protezione civile ovviamente, ci occupiamo di ambientale, ci occupiamo del socioassistenziale, dell'emergenza dei disabili, che è ancora più importante. Tutto questo, trasferirlo ai ragazzi, è di massima importanza. È fondamentale perché facciamo formazione, facciamo formazione ai ragazzi che sono il futuro del paese e lo facciamo con il volontariato di protezione civile che è una componente, una struttura operativa fondamentale del servizio nazionale. Con le magliette vediamo scritto anche io sono la protezione civile perché? Perché ogni cittadino, ogni singolo cittadino è operatore di protezione civile.